Ne è tolto le parole di bocca, quello è un mismatch che Farabello deve sfruttare senz'altro di più. Intanto fa piacere, sedi Silvarese, si sblocca finalmente Nolan che nelle partite precedenti ciò è abituato a degli inizi stratosferi. Sbaglia la bomba e Wheeler ha tutto campo per Jamel Thomas, realizza Thomas. Processo di miglioramento, iniziato con l'arrivo di Magnano e culminato con le belle partite casalinghe di Roma, contro Roma e contro Terra. Con due bombe, un canestro di cittadini e ora Thomas va e scommetto che inchioda, eccolo qua. Bimane, che ma testa per Teramo, ecco qua Tyson Wheeler, palla per Jamel Thomas, bella la finta di Jamel. Si alza e ne mette un'altra, a trarre qualche pallone anche sporco. Beh questo è fuori di dubbio, Varese deve assolutamente cambiare registro. Che bello su Raiola, ancora Jamel Thomas, un paio di finte per lui, si alza. Con il palleggio Wheeler, dentro per Jamel Thomas. Primo canestro del campo per Jamel Thomas. Non c'èca dire님 qui ci ABDI per blastare, Ch werencii dentro per ASE. Bello su Raiola. Come on guys. Come on. Come onva. Come on. 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 Troviamo al Thomas, rimbalzo di Raiola Questa Alley Up sarà Tutto il passetto di Teramo lo spera Viamente, Thomas ha fatto veramente un gran bel gesto atletico Passi offensiva Sbaglia Raiola, non sbaglia Jamal nelle mani Lissani Becilovic, Adriano hai visto Becilovic nella Marinos Thomas Arresta e tiro, Jamal Thomas Jamal Da appoggiare sotto mano di sinistro al tabellone Parziale di 5 a 0 in favore della pallacanestro Varese Prova Thomas Jamal Thomas Eman recupera questo pallone La palla è buona per Jamal Thomas Che va ad appoggiare per il nuovo vantaggio Teramo Più uno Teramo Basket Jamal Partita che si deciderà solamente negli ultimissimi secondi Nel frattempo diamo il replay del tiro di Thomas È bello Va Tyson Wheeler Paritai Jamal Thomas Il capitano che ha ripreso a fare il caniesto Intanto Thomas questa volta batte il green E Parallel male non poggia Un'ora all'aere che sta generando una partita straordinaria Però non bisogna da concentrarsi Darci per Silenzioso si punta Adesso va a stoppare William Ma Thomas Fa la cosa a Stroghi Ha le gambe E la voglia di accettare tutti i campi William Si va a contestare più di E la voglia di accettare più di